La zona artigianale di Via Vita a Marsala, quella che doveva diventare il volano economico della città, e invece si trova ad essere una vera e propria discarica a cielo aperto. Uno dei tanti simboli di degrado di questa città che non riesce a riemergere. Una città che da un lato vanta un'alta percentuale di rifiuti correttamente differenziati, ma dall'altra una serie di discariche a cielo aperto disseminate lungo tutto il territorio, soprattutto nelle periferie, che preoccupano per l'ambiente e la salute dei cittadini. In primis le immagini parlano chiare, degrado e sacchetti di spazzatura contenenti l'impossibile, accumulati lungo tutto lo spiazzale, rappresentano una vera pugnalata al cuore di chi ama questa città, e la vede in ginocchio per colpa di incivili che non si riesce ad individuare e punire per come prescrive la legge.